ciao ragazzi e ciao ragazze benvenuti o bentornati sul mio canale oggi video spacchettamento avon di campagna 9 se non erro si di campagna 9 questa è la nuova confezione mi piace tantissimo vi faccio vedere cosa mi sono stati ordinati partiamo subito sono pochissime cose però volevo farvele vedere partiamo dal cartaceo mi hanno inviato l'avon questo dell'intimo di campagna 10 due avon per te un catalogo casa l'avon outlet di campagna 10 e un catalogo di campagna 10 e la fattura dunque una mia amica mi ha ordinato due deodoranti roll on della profumazione far away ed erano in offerta se non mi sbaglio a 3 euro e 90 quindi ha approfittato poi sempre la stessa mia amica acquistato le perle nella colorazione medium ten poi ha voluto acquistare anche il fondotinta compatto nella colorazione porcellana e siccome c'era in offerta se prendevi due prodotti uguali o diversi venivano 13 e 90 se non mi sbaglio approfittato l'ho preso anch'io della stessa colorazione così ve lo posso fare vedere una mano sarà difficile però c'era fatta questa è la colorazione è un po chiarino è però vediamo un attimino e poi un'altra mia cliente è amante degli smalti questi sono i nuovi smalti ha voluto prendere il dreamy dragon che è questo bellissimo colore ragazze non potete capire che bello e fantastico non mi piace da matti e poi ha voluto prendere il pixie dance che è questo rosino color salmone insomma carino anche questo un po liquidini però vediamo un po come si comportano niente ragazze il video è finito mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video ciao